Sono già tante le firme raccolte con il presidio organizzato dal sindacato Fesica Confsal della provincia dell'Aquila a sostegno dell'internalizzazione dei servizi dell'ASL 1 di Avezzano sul Monal Aquila. Il gazebo è stato allestito lo scorso mercoledì all'esterno del San Salvatore e anche oggi il presidio è reattivo. Tra le tante firme già raccolte è anche quella del dottor Alessandro Grimaldi, primario di malattie infettive e segretario ANAO. A breve il sindacato vuole un incontro con i vertici ASL. Sono quattro anni che chiediamo l'internalizzazione per ridare una dignità anche ai lavoratori, oltre quello che dicevi sul precariato e sulle professionalità che andrebbero disperse. Perché non ci dimentichiamo che in mezzo a questi lavoratori ci sono persone di età avanzata e hanno professionalità, parliamo di 16, 17, 20 anni di servizio. Quindi oggi portarli a concorso insieme a chi ha diritto di fare il concorso ma che non ha mai fatto questo tipo di lavoro, è controproducente sia per l'azienda e sia per i lavoratori stessi. Quindi quello che noi chiediamo, e abbiamo notato che anche la politica, certamente torno a ripetere, stiamo sotto campagna elettorale, però la politica si sta smuovendo e sta lanciando le proprie idee. E oggi sono affiancato, e qui con me c'è il delegato Fabio Giurina, che parte in causa perché è uno degli amministrativi e che sta dando anche impegno sul fatto del lageraggio. Non ci dimentichiamo perché dicevamo del Covid, ma noi abbiamo avuto il problema del lageraggio che ancora oggi sta in fase di definizione e grazie a questi lavoratori del precariato se si è potuti intervenire in tempi celeri senza chiedere nulla. E allora è giusto che sia l'azienda e chi per loro abbia anche riconoscenza verso questi sacrifici, verso queste rinunce di stare con i familiari perché hanno lavorato per ore e ore, quindi hanno dato prestazioni di mano d'opera senza chiedere nulla in cambio.